l'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei ricongito alla volta sai andrea sembra quasi un paradosso quello di parlare di allenare la mente attraverso il web perché l'apparenza suggerisce che in realtà internet sta disabituando le persone ad allenare la mente perché è un mezzo che sta venendo utilizzato per impigrire molto però tu invece parli moltissimo del ovviamente anche grazie ai tuoi risultati traguardi parli molto del modo con cui bisogna allenare la mente allenarla un po come alleniamo il corpo e com'è che vedi il web come strumento per divulgare queste cose funziona secondo te allora intanto il web è uno strumento come dici per cui di per sé non è negativo o positivo o positivo dipende da come lo utilizziamo è vero però è che è molto più facile usarlo in maniera negativa se parliamo appunto di allenamento mentale perché il web ci permette di fare tantissime cose in maniera più semplice ha un sacco di scorciatoie di distrazioni noi possiamo imparare qualcosa per esempio invece che leggendolo da un libro guardando un video quindi ci impigrisce come detto poi è uno strumento che può essere usato anche in maniera assolutamente positiva per imparare cioè internet è una fonte infinita di conoscenza per cui dipende da come noi lo utilizziamo però soprattutto negli ultimi anni con i video brevi di cui io sono un grande critico anche se li faccio insomma da creator li faccio però i video brevi in generale il tipo di fruizione che c'è adesso danneggia la nostra attenzione che poi danneggia tutte le altre facoltà mentali tra cui la memoria perché prima della memoria c'è l'attenzione prima del ragionamento c'è l'attenzione parte tutto dall'attenzione che poi causa tutto il resto e nel momento in cui la fruizione di questi contenuti danneggia l'attenzione va di conseguenza a danneggiare il ragionamento a tutto tondo e non è solo la lunghezza dei video è anche per esempio la consapevolezza cioè su youtube io scelgo di vedere un video perché voglio vedere quel video su tiktok neril io non scelgo niente io scrollo e questa modalità zombie che poi che non zombie seneca tra gli zombie e è pessima perché noi non siamo non siamo più protagonisti siamo vittime e questo ci deteriora infatti una cosa che penso spesso è che bisognerebbe tornare a dare al verbo scrollare la sua il suo vero e originario significato che quella cosa che i maschietti fanno quando vanno in bagno io vorrei tornare a scrollare così però al netto di questa trivialità intanto grazie per essere venuto qua in studio saluto il pubblico ciao a tutti quelli che sono in live e siamo qui con andrea muzzi andrea se qualcuno qui non dovesse conoscerti come ti presenteresti allora mi presenterei come campione di memoria e come content creator ecco campione di memoria allora io ho visto un po di tuoi contenuti mi sono guardato cose in cui a parte che ho visto anche proprio delle gare che hai fatto però poi ho visto anche quando racconti le preparazioni è una cosa molto interessante parla uno che io ho sempre avuto dei problemi con la memoria esagerato però per esempio quando andavo a teatro e facevo teatro un po più un po più classico diciamo così quando portavo degli spettacoli mi capitava di avere delle difficoltà a memorizzare certi testi mi capitò un giorno e mi ricordo sempre questa cosa qua portavamo un pezzo di un'opera di Beckett e io avevo un lungo monologo però in mezzo a un testo abbastanza complesso a un certo punto mi dimentico la battuta e quindi io sono rimasto in silenzio sul palco per circa un minuto ripercorrendo dall'inizio tutto il testo perché era l'unico modo per ritrovare la battuta e quella è diventata mi hanno detto poi una scena quasi che sembrava fatta apposta perché io sono rimasto immobile a guardare per terra ero anche illuminato da sopra e quindi non ha pesato particolarmente al pubblico però questo per dire che la memoria è una cosa molto complicata allora ti chiederei intanto com'è com'è che ci sei arrivato a fare queste cose perché interessante intanto prima di rispondere alla domanda ti dico che moltissime delle tecniche di memoria sono nate proprio per gli oratori per chi doveva parlare senza gli appunti per anche ore per esempio cicerone no che teneva i suoi discorsi lo faceva senza appunti e lo faceva usando la tecnica che adesso è la regina delle tecniche di memoria che è il palazzo della memoria il cui nome originario era proprio tecnica dei loci ciceroniani e così come lui anche tantissimi altri oratori che dovevano tenere a mente delle storie dei libri no e tramandarli ai successivi dovevano appunto far uso di tecniche di tecniche di memoria e tant'è che addirittura alcuni termini come in primo luogo in prima istanza derivano proprio dalla tecnica palazzo della memoria dove i primi argomenti venivano posizionati nel primo locus in primo luogo nella prima stanza in prima istanza per cui ha anche radici molto profonde nella nostra nella nostra civiltà adesso rispondiamo alla domanda che era appunto come ho iniziato giusto sì sì esatto te la ricordi no giuro che non farò troppe battute su questa scusatemi però io cioè quando si entra in queste cose qua è giusto è giusto allora io ho iniziato per due motivi intanto non ho iniziato da piccolo come uno si può immaginare uno che arriva a fare il campione di memoria come può essere il campione di scacchi pensi ha iniziato a sei anni io ho iniziato a 17 anni anzi ho iniziato poi a gareggiare a 19 quindi grandicello adesso ne ho ne ho 24 io ho iniziato proprio alla fine del liceo verso la fila il quarto il quinto proprio perché volevo studiare più velocemente per la maturità per l'università futura in più avevo una passione che era quella del cubo di rubic facevo gare di cubo di rubic e mi stavo specializzando nella disciplina da bendato che ovviamente richiede una grande memoria perché memorizzi il cubo bendato ti metti la benda e lo risolvi unendo queste due cose ho detto quasi quasi conviene investire nell'imparare cioè nel migliorare la mia memoria allora semplicemente ho cercato tecniche di memoria su google e da autodidatta ho imparato con i libri con youtube con fonti quasi esclusivamente inglesi perché l'italiano c'era c'era poco poi mi sono io impegnato nel crearne tante e quindi questi sono stati i motivi non conoscevo ovviamente neanche l'esistenza delle gare di memoria l'ho scoperta poi successivamente l'ho scoperta mi sono spaventato quando ho visto quello che le persone facevano cioè memorizzano decine di mazzi di carte centinaia di cifre in pochi minuti delle cose assurde e ho detto mi ha spaventato proprio mi ricordo la sensazione precisa ricordo anche proprio quali erano i video che ho visto e ho detto madonna chissà che c'hanno questi nel cervello e poi poco dopo ci sono arrivato io proprio gradualmente e mi piace raccontare questa storia la racconto spesso proprio perché dimostra che io non ci sono nato a me poi è piaciuto un sacco cioè miglioravo in fretta mi piaceva sono diventato ossessionato dalla cosa ho iniziato a gareggiare e da lì poi ho continuato e ho iniziato a partecipare alle gare a vincerle così a questo è un punto interessante perché in fin dei conti quando si entra in contatto con persone che usano la mente in un modo molto specifico abbiamo un po' quella distorsione della genialità intesa però in senso deteriore cioè io guardo quella persona un po' come un freak un idio a baraccone esatto e lo guardo perché mi appassiona però poi non penso di poterlo fare anch'io e invece da questo punto di vista ci sono tante tecniche che ti permettono di allenare magari non so non tutti arrivano a diventare campioni di memoria a che livello peraltro e io ho vinto i mondiali ho vinto tre volte gli europei e sono primo nel ranking mondiale complimenti grazie grazie e però dicevo uno può allenarsi per arrivare comunque a un livello anche perché viviamo a me sembra e ci sono anche degli studi che mostrano in un'epoca dove la memoria è una delle facoltà della nostra intelligenza più rese obsolete dall'uso della tecnologia quindi cosa cosa cioè cosa potresti dire a una persona che dice Andrea Muzzi è la inarrivabile e io chi cazzo sono allora rispondo con ordine a tutte a tutte le domande innanzitutto ovviamente c'è una componente di talento ma per quanto riguarda l'aspetto competitivo cioè se io mi alleno alla stessa quantità di ore con lo stesso impegno rispetto ad un'altra persona per le gare di memoria magari io arrivo a memorizzare il mazzo in 15 secondi qualcun altro in 20 perché diciamo il talento se vogliamo chiamarlo così funge da velocizzatore per il miglioramento ma per l'aspetto agonistico per l'aspetto agonistico per usare le tecniche nello studio nella vita di tutti i giorni per semplificare quel processo di incamerare le informazioni lì non serve alcun tipo di talento ma perché lì non serve la velocità cioè il talento nelle gare di memoria è la velocità la velocità estrema di elaborare io quando memorizzo un mazzo in 15 secondi 52 carte sono 104 informazioni più o meno assimilo 7 informazioni al secondo all'incirca sono tantissime serve tanta velocità e lì c'è il talento delle gare questa velocità quando io devo salire sul palco e non dimenticarmi le battute non mi serve non mi serve assolutamente quindi lì non serve talento bisogna imparare queste tecniche fare un po di allenamento allenamento che poi non serve per mantenere quell'abilità perché se io all'inizio si devo allenarmi per andare in bici e mi serve non so qualche settimana per imparare poi una volta che ho imparato non è che devo ogni giorno andare in bici altrimenti me lo scordo io posso anche smettere di andare in bici per 10 anni poi quando quella volta dopo 10 anni mi serve andare in bici io quell'abilità ce l'ho è la stessa cosa io imparo il palazzo della memoria per ricordare i discorsi per ricordare i dettagli più difficili da memorizzare ad un esame i dettagli tecnici mnemonici perché ovviamente non è che un esame lo memorizza uno lo studia lo capisce lì ti impari la tecnica e rimane riguardo poi a quello che detto dopo sul fatto che oggi la tecnologia ha reso obsoleta la memoria in realtà no intanto ecco ti faccio un esempio vedi io adesso tu mi hai fatto più domande in una io mi sono fatto delle minuscole tecniche di memoria così il tutto rende più fluida la concentrazione oppure una cosa che mi capita spesso quando parlo con una persona no a me piace sempre cercare di trarre spunti da imparare dalle persone quindi ogni volta che ho una conversazione se questa conversazione è interessante mi vengono in mente delle cose imparo qualcosa queste cose io me le segno mentalmente faccio una rapida tecnica di memoria e dopo quando un attimo ragiono su questi elementi magari me li scrivo però lì per lì io riesco a fissare quelle informazioni oppure sto sempre avendo una conversazione mi vengono in mente delle domande che voglio fare poi in un secondo momento senza interrompere la persona e anche lì lo posso fare fare con delle tecniche di memoria ma più in generale anche l'abilità di pensare di passare da un argomento all'altro di tenere a mente più informazioni e il tutto è facilitato dalla memoria che aiuta poi il ragionamento poi in realtà solo in parte la tecnologia ha reso obsoleta la memoria intanto la creatività il processo creativo nasce comunque dalla rielaborazione di informazioni che già sono all'interno della nostra mente l'idea nuova nasce perché tu hai quelle conoscenze all'interno di te per cui l'idea del delegare tutto al telefono è folle cioè ok va benissimo per quanto riguardano gli aspetti proprio molto più mnemonici non so le date di storia magari è un po' più inutile memorizzarle però anche là poi nel momento in cui tu hai quelle informazioni nella tua mente ce le hai hai un'idea più mi viene da dire tridimensionale forse non è il termine adatto però secondo me rende l'idea perché fa capire che in realtà quelle informazioni tu le vuoi all'interno della tua mente e poi qui in realtà purtroppo per come adesso il sistema sia scolastico che universitario la memoria serve tantissimo serve più di quanto servirebbe secondo me perché lo studio sia a scuola che all'università è molto nozionistico è molto mnemonico tant'è che io ho imparato le tecniche come difesa per un sistema che ritenevo sbagliato perché quando l'insegnante ti chiede di ripetere quasi a pappagallo il giorno dopo le date di storia la frase detta dal filosofo lì ok ti dice le cose le devi capire va bene però la data di storia che poi tu vuoi a memoria anzi le decine di date di storia lì c'è poco da capire oppure l'esame di anatomia con tutti i termini anatomici cavolo se serve la memoria per cui no assolutamente secondo me non è obsoleta sì la tecnologia ci ha alleggerito un po' che non devo più ricordare i numeri di telefono però serve e serve ancora tanto no ma su questo sono d'accordo ovviamente era legato più che altro all'impigrimento come dicevi noi utilizziamo il telefono pensando di potergli demandare di poter abdicare alla nostra capacità di ricordare eh ma il rischio è proprio questo che uno magari fa così per le cose che può effettivamente delegare però per quelle che non può delegare come avviene nello studio oppure appunto nella creazione di nuove idee che partono da ciò che ho nella mia mente e a quel punto rischiamo di perdere un po' questa capacità se non la teniamo allenata assolutamente si aggiunge un problema oggigiorno che è quello del rumore perché tu hai detto una cosa che per me è molto importante che spesso ripetiamo su dei licogito cioè tu devi capire cosa vuoi conservare ok cioè devi sempre chiederti se questa informazione è utile o inutile filtrare devi filtrare Spinoza avrebbe detto emendare ok ripulire il superfluo per capire cosa vuoi mantenere oggi noi questo è molto più difficile perché siamo bombardati da stimoli continuamente lo scrolling che dicevamo di TikTok è uno degli esempi tu sei continuamente bombardato da uno stream of consciousness del tuo cellulare e questo ti porta a non selezionare più le informazioni in entrata sì 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 qui apri il vaso di Pandora intanto hai usato la parola rumore mi piace perché proprio un po' di tempo fa io ho una newsletter dove condivido dei pensieri delle pillole di miglioramento e ho usato proprio questo termine il rumore cerca di ignorare il rumore concentrandoti su ciò che è importante ovviamente capire ciò che è importante è difficile ma siamo circondati da questo rumore ecco ho detto proprio rumore di sottofondo continuo e questo porta tantissimi problemi perché lo scrolling innanzitutto ci fa percepire come più nuovo, più bello, più interessante qualunque cosa ad eccezione di quello che stiamo facendo in questo momento cioè quando io apro Instagram e scrollo sembra tutto più interessante rispetto alla mia vita rispetto a quello che sto facendo sembra tutto più bello e questo unisce in realtà tantissimi problemi che non è solo la memoria, l'attenzione ma ha ovviamente tantissima a che fare con l'emotività l'autostima il fatto che ci paragoniamo agli altri continuamente per cui un solo strumento come quello appunto del social soprattutto per come adesso porta un sacco di problemi poi una cosa su cui ho ragionato di recente è che in realtà i social hanno fallito la loro missione iniziale che era quella di connettere le persone era il loro obiettivo iniziale però a quanto pare ci ha disconnessi mettendoci gli uni di fronte agli altri in qualche modo è questo e guarda io recentemente insomma è venuto fuori anche qui ho tolto la mia vita privata dai social ho visto e l'ho fatto perché io poi non sono mai stato uno che eccedeva in quella cosa però cosa vuoi quando ho aperto la mia carriera su YouTube per me l'unione di privato e pubblico era molto più labile e quindi comunque ci mettevo le cose andavo allo spettacolo e via dicendo andavo a vedere uno spettacolo o al cinema la sera ci mettevo la foto mi sono accorto e in questi ultimi periodi la cosa è sempre più forte dal mio punto di vista che in realtà questo è dannosissimo sia per il pubblico perché spesso il pubblico si convince di seguire il tuo lavoro ma in realtà segue soltanto quelle briciole che metti in vita privata che poi sono molto selezionate di per sé proprio assolutamente per tutto quello che dicevamo prima e poi dall'altra parte tu stesso stai producendo rumore ok in questa produzione di rumore bisogna assolutamente cercare di frenare la tentazione perché poi il rumore è una tentazione ok sai cosa fa il rumore? il rumore ti permette di di non entrare più in contatto con quei silenzi in cui però è necessario perché se tu non hai quei silenzi in cui sei a contatto con la tua interiorità tu non selezioni più le informazioni in entrata cioè se vuoi selezionare e vuoi chiederti questa roba mi interessa ti serve il silenzio e quella roba lì sta scomparendo sì l'abilità di mindfulness no? di sentire se stessi sì 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 quindi sono io sono molto pessimista su come si stanno sviluppando eh pure io purtroppo credo che bene o male il social networking quindi quello di mettere in contatto bene o male sì è vero ha fallito però comunque rimarrà però credo che sul medio periodo quel social media invece che è il mettere la propria vita sui social stia sparendo già adesso ho questa sensazione tu? ce l'hai? eh in realtà non lo so non te lo saprei dire probabilmente sì però il modo in cui questo poi si declina ancora non lo so anche perché poi il modo stesso in cui usiamo i social cambia tantissimo già per esempio TikTok rispetto ad Instagram è molto diverso cioè Instagram veniva usato e viene usato soprattutto per mostrare il lato più bello di sé su TikTok soprattutto all'inizio uno invece era molto più spontaneo per cui dipende anche il linguaggio la stessa persona comunica in maniera differente da un social all'altro per cui poi è difficile stabilire è anche tutto un mix un mix di cose è difficile stabilire la linea di separazione come dicevi prima per chi lavora sui social dove finisce la vita privata e quella lavorativa e in generale quando c'è qualcosa che non ha nero o bianco e non ha una linea è sempre più difficile muoversi all'interno di ma infatti io credo che non ci sia una linea definita io credo che sia però necessario porsi sempre il problema cioè stare all'erta io dico bisogna stare all'erta è probabile che quella linea di marcazione per me sia cambiata nel tempo per te cambierà nel tempo però non la devi mai dare per scontato secondo me lo strumento migliore è farsi le domande ogni giorno domande che cambiano di tanto in tanto però mettere in dubbio quello che siamo quello che facciamo prima abbiamo registrato un video per il mio canale YouTube che uscirà successivamente e abbiamo usato più volte la parola consapevolezza che secondo me oggi è una parola importantissima la parola consapevolezza perché i social la minano la consapevolezza di noi del mondo di noi in relazione al mondo sì sì perché ci annebbiano di nuovo come prima io lo abbiamo già usato prima quando io ho detto lo scrolling leva la consapevolezza perché non decidi cosa guardare è la stessa cosa e quindi non ti poni più quelle domande allora la domanda più difficile che ti faccio adesso è quali sono le domande che ti fai quotidianamente tu per nutrire quella consapevolezza lì allora è tosta sì le domande che mi faccio sono molto pratiche e a volte forse troppo pratiche nel senso che rischia di venire meno l'aspetto un po' più emotivo e di ascolto alle proprie emozioni però detto questo la domanda che mi faccio di più è cosa mi separa dal livello successivo nella vita in generale cioè io sono dell'idea che ci sia sempre un aspetto in particolare in ogni fase della nostra vita che è un po' fuori posto magari ce ne sono tanti ma ce n'è uno in genere che spicca che è quel qualcosa che se viene risolto ci porta al livello successivo e cambia ovviamente di volta in volta io ho proprio una pagina su Notion che si chiama Next Level in cui mi faccio questa domanda periodicamente trovo le risposte e generalmente mi dedico a risolvere ognuna di queste risposte a migliorarla più o meno una ogni mese a volte può essere il mio rapporto con lo stress con la gestione del tempo il rapporto con una persona in particolare e c'è sempre quel qualcosa che dico mi separa dal livello successivo ma non perché ci sia una scalata sociale verso qualcosa ma il può essere anche semplicemente cosa mi separa dall'essere più felice il livello successivo significa il livello successivo nella mia vita quindi stare meglio rispetto a come ero prima e questa secondo me è una domanda chiave cosa mi separa dal livello successivo la risposta cambierà sempre e uno deve cercare di agire in relazione alla risposta che ti sei dato e il livello precedente? cioè te la faccio questa domanda perché perché io invece ho un approccio un po' diverso su questo dal momento che io io non so quale sarà il livello successivo di solito di solito io guardo a ritroso e mi chiedo ma rispetto a ieri ok gli ho fatti quei passi avanti perché cioè è verissimo quello che dici ed è importantissimo riuscire a darsi un obiettivo di step successivo io però faccio più fatica a fare quello e mi misuro con il me stesso di ieri più che altro secondo me sono molto simili le cose perché in realtà il mio chiedermi cosa mi separa dal livello successivo è più o meno come chiedermi un domani come potrò potrò rispondere positivamente alla tua domanda ovvero sono migliorato rispetto perché ok in questo momento cioè se mi faccio la mia domanda o la tua dipende da dove mi colloco nello spazio cioè mi stai dicendo che sono vecchio quindi no no sto scherzando sto scherzando perché alla fine anche là cioè se immaginiamo noi su una scala se mi guardo indietro o in avanti comunque quello che sto facendo è delineando un percorso no un percorso che si spera vada verso verso l'alto poi questo alto dipende da te cioè per qualcuno può essere una carriera in particolare per qualcuno può essere allevare dei cani per qualcuno può essere creare una famiglia leggere dei manga cioè dipende la risposta non ce l'ho io quindi perché il rischio di fare una domanda di nominare una scala un'evoluzione verso l'alto è quello di dare per scontato che la risposta giusta sia per tutti avere successo fare anche l'avere successo dipende per qualcuno possono essere aiutare i soldi per qualcuno può essere aiutare gli altri dipende molto io ammetto che questa consapevolezza fino a un po' di tempo fa ce l'avevo di meno cioè vedevo più la vita con degli altri anche con le mie lenti del siccome io sono ambizioso e voglio continuamente migliorare e avere successo nei campi nei quali mi piace lavorare allora è strano che altre persone non siano così come mai voi non e in realtà perché gli altri potrebbero dire lo stesso di me e quello che invece continuo a ritenere giusto oddio anche per gli altri in realtà non è che io posso giudicare cosa sia giusto o meno per gli altri però il fatto di puntare ad un miglioramento di sé continuo il modo in cui si declina questo miglioramento invece è giusto che sia estremamente personale questo sì provo a fare un ulteriore step in avanti tu dici quando vado a misurare questo step questo ovviamente si declina in modi diversi per ognuno gli esempi che hai fatto sono esempi comunque che hanno a che fare con dei criteri misurabili può essere la ricchezza il lavoro lo step successivo il fare una famiglia via dicendo io nel tempo la pensavo anch'io così però nel tempo mi sono accorto che quando tu nello step successivo ci metti questi elementi non bastano mai e non bastano mai e finisci e finisci per confondere anche cioè confonderti io mi ricordo quando quando pensavo che fossero dei criteri quantitativi a potermi guidare in quella cosa poi alla fine non potevo mai mettere un'asticella per dire ok adesso adesso sono soddisfatto e infatti nel tempo ho capito ho capito poi in realtà ho pensato ecco mettiamola così aiutato anche dai miei amici qui dietro che sono morti ma sono tutti vivi nei libri che il livello successivo è meglio che sia su qualcosa di non misurabile che sembra un paradosso ok perché poi non sai se sei a livello successivo ma perché perché in realtà sempre dal mio punto di vista il miglioramento è una cosa che percepisci in modo totalmente soggettivo il miglioramento io oggi lo me lo dico per esempio mi faccio una domanda nei confronti delle persone con cui lavoro sono più onesti trasparenti rispetto a ieri è evidente che questo non è misurabile beh in realtà secondo me può essere misurabile ma oddio se io chiedo alle persone con cui lavoro questa cosa qua di darmi una misura di questo non c'è un criterio di misurazione è una cosa che percepisco io ripensando le cose che ho fatto detto però è una cosa che ha a che fare con le mie soggettività e avendo a che fare con le mie soggettività posso capire anche quando sono soddisfatto di questo ok cioè capisci è una cosa che non posso confrontare con gli altri e credo che sia un elemento importante che negli anni ha sempre fatto più parte di me sì 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 e prima hai menzionato l'insoddisfazione il fatto che puntando sempre più in alto non ci sarà mai quel momento in cui oh adesso sto bene e questo è un mio grande problema che sto cercando di risolvere che ho migliorato nel corso degli anni ma che non ho ancora risolto nel senso che io continuo ad avere questo problema dell'insoddisfazione e ammetto ce l'ho praticamente ogni giorno cioè faccio fatica ad arrivare a fine giornata e ad essere soddisfatto ed è un proprio questa non è una cosa di cui vantarsi assolutamente no quelli che dicono che sono gli stacanovisti guru che ogni giorno ti devi sentire insoddisfatto perché non è mai abbastanza no non è vero perché poi vivi male e quindi questo io non lo dico come un incoraggiamento a fare la stessa cosa assolutamente no è una cosa ripeto su cui sto lavorando su cui devo migliorare perché in realtà ecco una chiave di lettura delle stesse cose che abbiamo detto prima che però non rovinano questo concetto secondo me è quello di godersi il percorso che si sta facendo quindi io posso continuare a volere sempre di più e anche a non essere soddisfatto della mia situazione ma comunque ad essere soddisfatto del percorso che sto facendo e quindi questo serve per far coesistere il sono ambizioso e voglio migliorare sempre al non esaurirmi al mi piace sono comunque soddisfatto della vita che sto che sto vivendo e il fatto di godersi il percorso mi sta risolvendo un po' questo problema è ancora in via di miglioramento ho un sacco di strada da fare però ho trovato che questo è il modo in cui è anche una caratteristica di una persona giovane e con grande con grande intraprendenza come te perché ripeto io mi riconosco perfettamente in questa cosa che stai dicendo io in un altro ambito però alla tua età ero molto attivo per esempio con l'associazionismo studiavo all'università e quindi facevo un sacco di cose la sensazione di non essere soddisfatto anche quando ho fatto cose belle per cui tutti mi davano pacche sulla spalla era grande era profonda ed è per questo che a un certo punto ho detto il criterio quantitativo è fondamentale però non è la cosa che dà significato poi quando arrivo alla fine della giornata non è quello che mi fa dire ok non è quello è proprio una percezione è una percezione molto intima legata poi a com'è che potrei dire c'è un filosofo che è Bergson Bergson che ti interesserebbe molto perché lui parla moltissimo di mente ovviamente è di inizio novecento quindi dal punto di vista delle neurobiologie sicuramente molto arretrato però fa dei ragionamenti interessantissimi lui ha scritto questo testo che si intitola il saggio sui dati immediati della coscienza in cui lui dice ogni volta che noi facciamo un'esperienza del mondo la nostra mente vive due esperienze diverse una è l'esperienza mediata da quella che chiama coscienza ovvero è l'esperienza che io riesco a parcellizzare l'esempio è sono in riva al mare con la mia fidanzata io riesco grazie a questa secondaria percezione mediata dalla coscienza a pensare singolarmente al profumo della salsedine ai fulmini all'orizzonte alla presenza della mia fidanzata alla sensazione della sabbia sotto i piedi tutte queste cose sono singole rappresentazioni della mia mente però prima di questa c'è una percezione immediata che è quella non ancora filtrata dalla coscienza che è quella in cui io sono un tutt'uno con quell'istante della mia esistenza e io sono il prodotto dello stratificarsi di queste esperienze immediate su cui poi interviene la mente razionale che separa tutto quanto quella parte immediata non è misurabile perché gli elementi che la compongono non sono elementi separati non sono misurabili io sono moltissimo quella parte ok e i criteri quantitativi in qualche modo non riescono a rappresentarsi quella parte perciò a un certo punto bisogna scoprire il fatto che devi misurarti con quell'interiorità che puoi conoscere solo tu però io ecco un modo per non che sia necessario ma un modo per renderla quantitativa questa cosa riesco a vederlo ovvero tutto ciò alla fine può essere sempre espresso con il grado di felicità e di soddisfazione che è diverso da quello di piacere ne abbiamo discusso prima quando abbiamo registrato il mio video e io posso anche essere felice senza rincorrere i piaceri quindi è il metro di paragone secondo me migliore per la qualità della vita eppure la 1 può dire alla fine di ogni giornata quanto sono stato felice della giornata da 1 a 10 e ovviamente il modo in cui raggiungi quel 7 quel 9 dipende da un insieme infinito di cose però secondo me comunque una certa non che ci debba essere però perlomeno per il modo in cui io ragiono che è molto analitico riesco a vederla in questo modo invece su quello che dicevi prima appunto della spiaggia e tutto quanto alla fine si declina in vivere il presente no? è quello perché tu mi stavi descrivendo proprio delle sensazioni che di per sé sono possibili solo nel momento in cui uno vive il presente uno è presente proprio a se stesso altro elemento che devo migliorare che cerco da tanti anni di migliorare sei molto proiettato tu sì 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 però ecco l'ho dovuto fare anche per le gare di memoria perché le gare di memoria richiedono una concentrazione assurda secondo me uno dei livelli di concentrazione più alti che ci possano essere perché non ti puoi distrarre un attimo ogni attimo in cui ti distrai sono secondi persi per la gara cioè quando memorizzi un mazzo in 15 secondi sei estremamente presente in quello che stai facendo quindi io ho migliorato la mia capacità di essere presente e concentrato tantissimo grazie alle gare di memoria poi replicare lo stesso livello di immersione e di presente in altri contesti è più difficile ma è così più in generale tutti questi discorsi che noi stiamo facendo sul miglioramento sulla consapevolezza di sé e per cui uno si potrebbe chiedere ma che c'entra tu sei un campione di memoria io li faccio mi piace farli e ho incentrato gran parte dei miei contenuti online su questo proprio perché questo modo di vedere le cose mi viene da legare di memoria questa continua analisi di sé che un atleta che sia fisico mentale deve fare continuamente l'atleta punta sempre al livello successivo si deve chiedere qual è l'aspetto da migliorare e lo deve fare in maniera estremamente onesta e spietata perché poi se hai un allenatore te lo fa lui se tu non ce l'hai come ho fatto io cioè i miei rivali asiatici avevano le accademie con gli allenatori io ero da solo io dovevo batterli da solo senza l'allenatore il team per cui la domanda del cosa devo migliorare su cosa devo lavorare me la dovevo fare da solo dovevo dare una risposta dovevo farmi un piano pratico di allenamento per migliorare quell'aspetto e tutto questo nel corso degli anni mi ha insegnato tantissimo riguardo al modo di vedere noi stessi gli altri il modo di migliorare di accettare le sfide di lavorare sul fallimento per cui il motivo per cui poi a me piace parlare di tutto ciò è proprio questo perché sono riflessioni che vengono dalla mia esperienza sportiva perché di fatto il mondo delle gare di memoria è un mondo agonistico e anzi rispetto al mondo fisico dell'agonismo fisico ha una difficoltà in più che è proprio quella che devi gestire anche la tua mente cioè se io ho fatto anche pugilato e anche lì ho fatto degli incontri a livello agonistico gestire le emozioni all'incontro di pugilato era più facile rispetto a gestirle per quanto c'è anche là una certa paura è più facile rispetto a gestirle alla gara di memoria perché l'adrenalina alla gara di pugilato mi aiuta alle gare di memoria no io devo stare calmissimo cioè io devo raggiungere un livello di concentrazione da monaco quasi a tarassia esatto quando sai che adesso in quei 15 secondi tu rischi di giocarti il titolo mondiale eh quella roba è una cosa da monaci assolutamente assolutamente e sai hai usato una parola adesso io ti dico che quella parola che hai usato descrive molto bene quello che io vedo in te quella parola è spietatezza tu mi dai la percezione di essere una persona spietata nei tuoi confronti e la domanda che ti faccio è una domanda fastidiosa pensi di doverne pagare le conseguenze a un certo punto ne sto già pagando le conseguenze e ti dico anche questa mia ossessione verso il miglioramento che sia nelle gare di memoria nell'aspetto lavorativo o in qualsiasi altro deriva dall'insicurezza di non essere abbastanza e quindi la parola spietato è giusto e anche qua è qualcosa che io sbaglio e su cui devo migliorare assolutamente perché è deleterio a lungo termine il fatto di essere così spietati nei propri confronti e quindi non soddisfatti e quindi non felici quali sono gli obiettivi di vita che tu ti daresti al di fuori di questo di questo di questo ambito agonistico che stai ovviamente che è quello che devi perseguire ci mancherebbe però se tu dovessi pensarti al di fuori di questo ambito perché magari ti stanchi perché magari non hai più passione ci mancherebbe verso cosa sposteresti i tuoi obiettivi di vita? in realtà in gran parte è già così nel senso che le gare hanno nell'ultimo periodo un'importanza minore rispetto a prima e in questo momento sono anche in una pausa e tutto questo perché diciamo la mia ossessione si è più spostata sull'aspetto lavorativo in questo momento e se devo cercare di definire in maniera più sintetica possibile secondo me è il proprio aiutare gli altri a superare i propri limiti cercando di sfruttare il mio percorso e tutte le cose che ho imparato che è quello che io allora di lavoro faccio il creator ma più che altro i videocorsi tu sai che ho diversi videocorsi le attività sui social eccetera eccetera per cui questo è il modo in cui io vivo il mio presente e vedo il mio futuro quindi sfruttare le cose che io ho imparato sia molto tecniche che può essere appunto la capacità di memorizzare la capacità di concentrarsi ma più in generale di migliorare noi stessi nell'ambito mentale soprattutto di focalizzazione e sfruttare tutto questo per aiutare gli altri a fare lo stesso ed è mi piace un sacco è quello che faccio adesso e che mi piace molto lo fai molto bene anche perché il tuo canale YouTube a me piace molto quindi insomma ovviamente in tutto questo miglioramento in tutto questo automiglioramento sapete che ci sono anche altri strumenti che possono permetterci di migliorare per esempio migliorare nella capacità di esprimerci in lingue diverse e quindi mi do il benvenuto allo sponsor di questa puntata Cambly Cioè tu mi stai dicendo che ancora guardi le serie tv sottotitolate o doppiate? Sapevi che esiste una piattaforma perfetta per chi vuole imparare l'inglese come si deve usando pc o smartphone? Una piattaforma che ti mette in contatto con centinaia di insegnanti madrelingua per migliorare il tuo inglese in qualsiasi campo Devi tenere un colloquio di lavoro per una multinazionale americana? Cambly ha il docente giusto per te Devi sostenere un esame di chimica organica in inglese? Cambly ha il docente giusto per te I prezzi di Cambly sono imbattibili e grazie al nostro codice sconto che trovi in descrizione puoi avere accesso alla piattaforma a partire da 18 euro al mese Tra un anno guarderai indietro e dirai per fortuna ho cominciato a usare Cambly e io ti risponderò You goddamn right sai io ho abbandonato l'agonismo molto tempo fa perché io giocavo a pallacanestro ero molto agonistico mi piaceva tantissimo sono stato sempre una persona molto competitiva però poi il mio ginocchio mi ha detto mi dispiace la tua carriera finisce qua e quindi da quel momento io ho trasportato il mio agonismo in cose molto più triviali sono un appassionato di giochi da tavolo con i nostri amici facciamo spesso serate e via dicendo mi sono accorto che quando il mio agonismo è stato poi applicato una cosa minore mi si è aperto un mondo che prima rimaneva relegato nell'ombra che era soprattutto il mondo delle relazioni ok e mi sono accorto che c'era più spazio più tempo per nutrire le relazioni di un certo tipo e via dicendo la domanda che faccio a te che invece sei immerso in questo agonismo e ne hai fatto la tua vita almeno per il momento come vivono le persone intorno a te questa tua questa tua questo tuo assorbimento umano in questa attività che porti avanti che è una tua caratteristica io lo vedo cioè lo vedo che è una caratteristica che tu proprio incarni in modo molto forte che è interessantissima allora la risposta non è facile ovviamente la vita di un memory athlete soprattutto durante la preparazione di una gara è molto simile a quella di un atleta quindi ore di allenamento ogni giorno regolarità nella vita per cui non poter fare tardi la sera dover mangiare bene tutto quanto e per cui ovviamente le persone intorno a te devono anche comprendere tutto questo io in realtà quando diciamo il periodo in cui mi sono dovuto allenare più duramente è stato quello del 2019 in cui ho fatto la mia scalata nel world ranking e poi ho vinto i campionati mondiali lì avevo pochi amici in realtà perché io mi sono trovato molto male al liceo e quindi avevo pochissimi amici e gli amici più importanti poi li ho fatti sia negli anni successivi che qualche anno prima ma poi le vere amicizie le ho maturate in realtà da là in poi e quindi gli amici che in realtà capiscono benissimo la cosa ma non pesa più di tanto nelle relazioni perché è ovviamente meno assorbente di per esempio la vita di uno scacchista lo scacchista medio si allena anche più di 12 ore al giorno il memory athlete no perché è anche molto difficile performare bene negli allenamenti di memoria dopo due, tre, quattro ore al giorno per cui nei periodi più intensi nel 2019 io mi allenavo tre ore al giorno che non è tantissimo in realtà non è la vita oppure non so un tuffatore che fa due allenamenti al giorno e allora lì è molto difficile avere una vita al di fuori di tutto quello nel mio caso non è così si servono i sacrifici la regolarità e tutto quanto ci sono tante volte in cui ho detto di no all'uscire la sera fare tardi la sera uno scenario tipico con cui ormai quasi scherzo con alcuni miei amici appunto al fatto che in alcuni periodi io ok adesso è mezzanotte e mezza io mi devo allenare domani quindi ci vediamo però questa cosa in realtà non ha pesato tanto perché poi riesco a gestirmela abbastanza bene ho avuto poi la fortuna negli ultimi anni specialmente di fare delle amicizie molto significative e lì gli altri lo se sono davvero amici insomma non ti fanno problemi per questo questo è molto importante perché io avendo conosciuto altre persone che hanno vissuto in altri ambiti diversi mi accorgo che molto spesso questo tipo di approccio è spesso respingente nei confronti degli altri ma soprattutto porta alcuni a svalutare l'importanza di relazioni perché quando sei molto è una cosa che ho visto anche in me quando sei molto molto agonistico molto competitivo una delle conseguenze psicologiche è quella di pensare di bastare a se stessi ok perché è una conseguenza inevitabile quando tu di nuovo usi un criterio quantitativo per misurarti con il mondo circostante in qualche modo ti apri al rischio di dire io ce la posso fare ed è un grave rischio quello quindi è molto importante che una persona con questo grado di competitività riesca poi a dire posso nutrire relazioni di valore che magari non si basano su quel su quel criterio quantitativo ecco invece per esempio al liceo è capitato più volte che mi prendessero in giro per queste cose no tipo autistico eccetera eccetera per il cubo di rubik per le memorizzazioni e quindi sì 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 è una cosa una cosa che purtroppo serpeggia molto perché poi come diciamo prima molto spesso di fronte alle capacità altrui ci sentiamo allontanati e quindi bisogna difendersi non c'è non c'è niente da fare e tutto questo mi porta a un ulteriore approfondimento perché io ho visto sul tuo canale che tu tratti a volte l'hai fatto anche con Valerio Rosso però anche in autonomia un argomento che a me sta molto a cuore che è quello delle dipendenze e la domanda che ti faccio è questa nell'ambito in cui vivi tu hai mai sentito il rischio di dipendere dal punto di vista emotivo dai risultati per esempio e come come riesci a gestirla questa cosa qua sì questo è un rischio enorme e che io ho avuto adesso l'ho quasi risolto o comunque sono in via di miglioramento ma il fatto di identificare la tua persona con un titolo che nel mio caso è il titolo di campione mondiale di memoria per qualcun altro può essere una professione un tipo di carriera è pericolosissimo perché nel momento in cui ti tolgono quel qualcosa per qualche motivo eh sei fregato perché se la tua identità coincide con quell'altra identità costruita quel titolo sociale sei nella merda perché è rischiosissimo e poi te lo tolgono e tu la tua identità e quindi io questa cosa fino a un po' di tempo fa ce l'avevo adesso ci sto lavorando e credo quasi di averla risolta ovvero far capire intanto a me stesso ma anche agli altri che prima sono Andrea e poi sono il campione di memoria e questo è soprattutto per me che io mi sono fatto conoscere al mondo come il campione mondiale di memoria io prima non avevo neanche social poi da un mese all'altro mi sono ritrovato ad essere su Rai 1 un sacco di giorni di fila dopo aver vinto i mondiali quindi questo ragazzo il campione mondiale di memoria ancora prima di dire il nome no Andrea e questo è un rischio e in genere accade a chi è molto in alto in una scala di qualche tipo che può essere agonistica può essere economica può essere sociale ed è pericoloso tutto ciò che è criterio quantitativo se ci pensi è quello tu hai detto una frase hai detto una frase è molto bello perché hai detto io sono prima Andrea Andrea non è mica una roba che riusciamo a misurare cioè nel senso non è che se ti metto sulla bilancia dico Andrea è quanto pesi? 80 80 perfetto non sei quegli 80 non sei la tua altezza non sei un'altra cosa mi hai fatto venire in mente una storia che è della pallacanestro non so se tu hai mai seguito molto poco pallacanestro io sono molto appassionato di NBA e negli anni 90 c'era questo giocatore che era un mostro un mostro di bravura era un atleta si chiamava Sean Kemp Sean Kemp era questo tizio di 2 metri 10 che però correva con una gazzella aveva una muscolatura incredibile ed era agile come veramente una ballerina di danza classica una cosa incredibile e lui era probabilmente il più grande giocatore per il futuro decennio dopo Michael Jordan nel 98 capita una cosa nel 98 la NBA va in lockout quindi fanno una sorta di sciopero per il rinnovo dei contratti e la stagione NBA che sarebbe dovuta partire a ottobre del 98 invece parte a febbraio del 99 quando parte la stagione Sean Kemp si presenta agli allenamenti sovrappeso completamente distrutto e dipendente dall'eroina gli erano bastati 4 mesi 4 mesi senza la cosa per cui viveva per autodistruggersi completamente da quel momento Sean Kemp non si è mai più ripreso si è rimesso un po' in forma ma mai più come prima è sempre entrato e uscito dalla droga e ha finito la sua carriera purtroppo in modo poco decoroso ed è una lezione fondamentale della vita questa perché di nuovo tu mi hai detto una frase fondamentale io sono Andrea e riuscire a dare un'importanza a questo secondo me è ciò che sta mancando drammaticamente in questa epoca dove tutto è misurabile in follower si pensi è drammatico prima stavo anche per dire che questo rischio di identificare la propria persona con un titolo viene anche amplificato dai social c'è uno sulla bio c'è io sono il campione mondiale di memoria anche io lo faccio e sì questo è un rischio che hanno tantissimo gli atleti ovviamente perché vivendo così tanto intensamente così tanto a lungo per qualcosa quando te la tolgono fatti un sacco di atleti poi vanno vanno in depressione oppure non so qualcuno che ha vissuto per il proprio lavoro poi va in pensione e lì e adesso ti svegli e ora che si fa e sì questo è un rischio che nel mio caso è molto minore ripeto anche perché io vado anche a periodi ho diversificato molto quello che faccio adesso sono un sacco concentrato sul lavoro per cui me la sono scampata però questo rischio c'è stato e per chi fa qualcosa a livello agonistico o lavorativamente agonistico è un bel rischio e che tu cioè è comprensibile perché lo fai come lavoro cioè anch'io nella mia bio di instagram c'ho autista di tram sui denti ok perché è divertente perché è una cosa però almeno io lo faccio come lavoro però pensa a tutte quelle persone che invece sui social non ne traggono un lavoro non ne fanno un mestiere e comunque vivono per il numero di persone che guardano le loro stories il numero di mi piace che beccano sulle foto e vivono nel tentativo di proiettare un'immagine che moltiplica quel numerino che però poi non ha veramente nessun significato e lì secondo me secondo alcuni questo è la causa di alcuni problemi ma secondo me è un effetto non so se tu sei d'accordo ma io credo che noi viviamo un'epoca in cui per tanti motivi e credo che sia un motivo soprattutto della relazione sbagliata che abbiamo con la tecnologia in cui noi non crediamo più veramente nel fatto che quello che siamo abbia un certo valore io questo l'ho visto in un argomento che voglio sottoporti per discutere perché insomma tu parli anche di queste cose qua che è l'intelligenza artificiale ok io appena è venuto fuori c'è GPT mi sono preoccupato perché ho visto un sacco di persone che senza informarsi senza usarlo senza capire che cosa fosse già dicevano ci sostituisce l'arte di l'enza è come l'arte di Picasso o Van Gogh e in questo io ho visto una cosa che in realtà vedevo da tempo ma lì l'ho vista massificata cioè l'idea che in fin dei conti noi non pensiamo più che quello che proviene da noi come creatività come capacità come talenti come identità abbia un valore perché tutto ha valore su quello che gli altri vedono e quindi l'intelligenza artificiale che tu la vedi produrre un'immagine vedi il risultato finale non chi l'hai prodotta esatto noi abbiamo perso il valore di quel processo e di quel percorso di cui parlavi prima sì sì non avevo mai fatto l'analogia di questo con l'intelligenza artificiale che può essere vista anche sotto questo mi ci ritrovo sì 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 io ho anche paura dell'AI del futuro cioè guardando in così pochi anni come le cose sono cambiate ovviamente non lo so cioè è molto difficile sicuramente già adesso alcuni processi intellettivi sono stati automatizzati e quindi in futuro si andrà anche in questa direzione però secondo me l'aspetto puramente creativo rimane principalmente umano e sì è però bisogna bisogna farlo capire alle persone perché lì invece c'è un sacco di gente che sembra non aspettare altro che dire visto visto che noi non siamo così niente di speciale perché poi c'è questa cosa qua che io trovo sempre quasi comica però anche tragica ok la storia della conoscenza umana anche della scienza degli ultimi secoli è una storia di detronizzazione dell'essere umano ok siamo passati dall'essere al centro del cosmo all'essere su un pianeta come tanti altri e poi eravamo al centro della creazione e poi invece siamo una creatura sempre meno importante sempre meno importante ok che è giusto perché abbiamo dovuto ridimensionarci molto pensavamo di essere molto più fighi di quello che siamo però questo porta alla conseguenza ne parla Nietzsche quando discute il concetto di morte di Dio ok porta alla conseguenza che tante persone questa svalutazione non l'hanno acquisita come un adesso sono più responsabile di quello che sono perché non c'è più un Dio che mi dà senso devo dare io senso l'hanno presa come un adesso vale tutto adesso vale tutto vale non vale niente tutto non vale niente e tutto non vale niente capito e questo secondo me è una traccia molto forte della nostra epoca e questo lo si vede in tutte le cose che abbiamo toccato è vero è vero non saprei neanche come risponderti perché sono ragionamenti che necessitano un sacco di tempo per essere fatti anche questo io non ci avevo mai riflettuto a sufficienza sul fatto che molti degli effetti che noi stiamo vedendo adesso nel modo in cui le persone si comportano e nel modo in cui pensano deriva anche da questo processo di come si dice riduzione dell'importanza sì il sminuimento è brutto perché non è vero diciamo ridimensionamento ecco è un ridimensionamento che è giusto ridimensionarsi anche lì è come ogni cosa ha i suoi pro i suoi contro sì sì assolutamente assolutamente senti qua ma il tuo progetto adesso del canale youtube se tu lo vedi svilupparsi nei prossimi anni cioè cos'è che ti piacerebbe veramente se tu avessi la massima libertà di fare quello che ti pare su youtube cosa vorresti fare allora la massima libertà in assoluto senza è difficile dire la massima libertà limitandoci a youtube perché a me piace vedere più youtube come un mezzo è un mezzo per parlare alle persone per condividere le proprie idee per insegnare qualcosa alle persone per ispirarle a me piace tantissimo fare due cose insegnare e ispirare e io ho avuto la fortuna di trovarmi in questo percorso delle gare di memoria che mi ha permesso di fare queste due cose insegnare o banalmente le tecniche di memoria o ciò che è derivato dal mio percorso tutti questi ragionamenti che abbiamo fatto insieme e poi ispirare tramite quello che io ho fatto un percorso di miglioramento che mi ha portato a fare delle cose che ritenevo impossibili per cui eliminando un po' youtube dall'equazione vorrei fare queste cose ad un livello sempre più alto e un domani che abbia a che fare sempre di più con l'istruzione specialmente in ambito scolastico perché ho un'idea molto molto critica della scuola ne ho parlato varie volte in particolare su un video che ho fatto sui social che ho chiamato la scuola rovina le menti e ho i gravi problemi della scuola italiana per cambio titolo di tanto in tanto e io gran parte anche di questo mio percorso deriva dalle insoddisfazioni che io avevo al liceo insoddisfazioni sia personali quindi insicurezze sia insoddisfazioni di quello che vivevo in ambito scolastico io a scuola mi sono trovato molto male e questo mi ha spinto a cercare interesse all'esterno della scuola perché all'interno non ne avevo per niente mi trovavo male con i compagni con i professori con le materie che venivano insegnate con il modo in cui le materie venivano insegnate e da lì anche ho iniziato a imparare le tecniche di memoria o meglio quando ho scoperto le tecniche di memoria l'aver capito che mondo c'era dietro all'apprendimento non solo poi la memoria è solo una parte dell'apprendimento ma come funziona la nostra capacità di apprendere quando ho scoperto tutto questo e poi ho visto la scuola e ho detto ma le due cose non c'entrano niente lì mi si è aperto un mondo ma mi sono arrabbiato ancora di più e quindi io vorrei sempre di più andare in questa in questa direzione un domani mi piacerebbe creare una scuola vera e propria quindi vorresti proprio diventare ministro dell'istruzione e riformare da zero scuola sai cos'è che è anche difficile capire quanto l'impatto che tu puoi avere possa essere a livello istituzionale o per i fatti tuoi certo certo perché farlo per tutta la burocrazia che c'è i bastoni tra le ruote farlo dall'esterno farlo dall'esterno cioè io già adesso rispetto magari a provare a fare un progetto con una scuola pubblica un progetto istituzionale cioè riesco ad avere molto più impatto il risultato facendo la stessa cosa con dei video su youtube assolutamente e quindi io la vedo più sotto questo punto di vista poi magari un giorno invece sarà diverso perché per quanto velocemente evolvono le cose anche il nostro modo magari tu hai un certo obiettivo o meglio un risultato finale però il modo in cui lo raggiungi può cambiare tantissimo per cui questa domanda in realtà non riesco a dare una risposta a questa domanda ti so dire quali sono i miei obiettivi che sono appunto questi qua insegnare ispirare lavorare sulla scuola che non funziona il modo in cui tutto questo si risolve bisogna bisogna vedere sicuramente più mi impegno in quello che sto facendo adesso con la divulgazione con i corsi più sarà facile un domani raggiungere questi obiettivi però chi lo sa se sarà in maniera istituzionale con la scuola oppure creando io una mia scuola esterna ma comunque scuola non lo so non lo so però da un po' sto vedendo questo come il mio futuro quello di creare una scuola non so ancora dirti che tipo no certo certo so bene però so benissimo e questo è chiarissimo dall'inizio quali sono i principi di tutto questo certo quali sono e sono quelli che seguono il nostro modo di apprendere di vivere c'è una scuola molto più partecipe cioè in cui i ragazzi sono più attivi più partecipi più interessati in cui uno esce dalla scuola non che odia lo studio come avviene in genere ma che lo ama assolutamente senti qua mi hai detto gli obiettivi sì e le paure quali sono di cos'è che ha paura Andrea Muzzi allora pure questa è bella di domanda e le mie paure più grandi sono intanto essere banale e vivere una vita che non si allinea ai miei valori e ai miei obiettivi quindi non riuscire a raggiungere queste cose che abbiamo visto non riuscire a lavorarci e il terzo che in realtà è connesso a questo non avere la libertà di esprimersi cioè di non aver modo di dare sfogo a questi desideri che uno che uno ha cioè io voglio appunto insegnare voglio ispirare poi magari un domani cambieranno magari cambierò completamente via non lo so però ho paura che un domani le circostanze mi possano impedire di vivere seguendo questi obiettivi che ho e questo certo certo quindi vivere una vita che non è quella che vorrei in cui mi sento realizzato ecco adesso vedi dando le risposte mi viene in mente una cosa più definita ho tanta paura di o ritrovarmi senza una missione un obiettivo o avercelo ma non aver modo di raggiungerlo di questo ho molta paura poi il modo in cui si può avverare non lo so le paure in gran parte sono irrazionali in parte no e in parte ci aiutano anche a lavorare meglio su quello che facciamo ma c'è questa paura del magari un domani non avrò più qualcosa verso cui andare o ce l'avrò ma la mia situazione o la situazione esterna mi impediranno di perseguirlo sai che ti do una notizia adesso la notizia che avrei voluto avere io a 23 anni ci sarà il momento in cui ti troverai senza direzione ci sarà un momento in cui e non è che te lo sto augurando è che capita inevitabilmente dirai e muo che cazzo faccio e quello è un momento quello è un momento è un momento di passaggio importante è un momento di passaggio e tu quando l'hai avuto? io l'ho avuto l'ho avuto beh più di una volta in realtà però quello grande grande l'ho avuto proprio fra il lavoro precedente e questo qua io ho avuto un anno e mezzo in cui non avevo la più pallida idea di che cazzo fare della mia vita in cui ero senza soldi senza prospettive senza qualcosa che mi permettesse di dire adesso vado in quella direzione ed è durato quel periodo è durato drammaticamente per direi 8-9 mesi anche tanto eh però capita però non farei quello che sto facendo adesso se non ci fosse stato quel periodo quindi non so io le lezioni che ho imparato io ormai cosa vuoi avendo comunque un'età avendo qualche anno di esperienza mi sento anche di trarre qualche insegnamento dalla mia esperienza e quello che ho tratto è che qualunque sia l'obiettivo che hai adesso esattamente come quelli che ho adesso inevitabilmente cambieranno perché in quel momento in cui ti troverai a dover rivedere le cose scoprirai qualcosa di te che prima ti era invisibile è inevitabile è un bel percorso però un bel percorso non bisogna averne troppa paura è un bel percorso però è tosta è tosto è una fatica è una fatica che bisogna affrontare però tu mi sembra mi sembri uno che le fatiche le sa affrontare quindi non deve avere neanche preoccupazione a riguardo vediamo perché in realtà cioè anche chi come me è estremamente come si dice in italiano cioè quando ti dedichi tantissimo a qualcosa proprio quella quella forza che può essere vista come una forza perché lo è può anche essere una debolezza perché appunto nel momento in cui non hai modo o qualcosa non c'è più stai ancora peggio degli altri perché se sei abituato a dare tantissimo per qualcosa a vivere con una missione e poi quella non c'è rispetto ad una persona che tra virgolette si accontenta non che ci sia qualcosa di male ma che ha priorità differenti nella vita sicuramente vive la mancanza di una missione in maniera molto più tranquilla rispetto a qualcuno guarda ti dico secondo me il punto è questo bisogna avere una missione nella vita cioè nel senso bisogna ognuno di noi ha un suo ruolo perché abbiamo delle caratteristiche che si incastrano nel mondo in modi molto precisi ok bisogna rendersi conto di due cose secondo me il primo è che questi incastri cambiano nel tempo e quindi una persona che anche a 40 anni dica ok io sono questo e sarò così fino alla fine rischia di essere già finita ok in realtà no quella cosa cambierà ma in secondo luogo quello che veramente ho imparato nel tempo è la prudenza nella missione cioè tu hai una missione hai una visione vai in quella direzione devi sempre renderti conto del fatto che a un certo punto verrai sconfitto ci ho fatto una puntata proprio qualche giorno fa vivrai delle sconfitte in quelle sconfitte non ci sarà nessuno che ti prenda per mano e ti dica vieni di qua non subito e se ti rendi conto di questo la missione la vivi con la prudenza necessaria vai con tutto te stesso ma ci sarà sempre una vocina che ti dirà però stai allerta perché a un certo punto l'ignoto arriva e l'ignoto lo dovrai affrontare che ti piaccia o meno infatti anche questo tema il tema dei fallimenti l'ho affrontato varie volte e forse non lo sa io ho fatto un video in cui proprio di recente qualche mese fa ho parlato dei miei cinque più grandi fallimenti soprattutto delle cose che ho imparato e poi ho nominato altri tre creators per fare la stessa cosa uno di questi era Alessandro De Concini che poi ha fatto il video e ha nominato te adesso capito da dove è arrivato quel video di De Concini che io non ho cagato che tu non hai cagato esatto tanto che io ieri mi è apparsa nella home ma da cosa che ascoltiamo Alessandro De Concini mi è apparsa il tuo video ieri sulla home che non ho visto ancora dei fallimenti e ho detto ah vedi se finalmente ha fatto il video per cui è stato nominato no in realtà peggio in quel video adesso mi ci penso in quel video non so perché ridete tanto no no in quel video addirittura tu l'hai nominato oddio mi fa morire da ridere questa cosa perché in quel video io giuro senza pensare a quel video di De Concini io ho detto mi sarà sicuramente capitato di vedere qualche video di qualcuno che racconta i suoi fallimenti passati e non ascoltati no no perché in quel video dico scusate ragazzi ma è bellissima questa cosa in quel video io dico pensa ai fallimenti futuri ma ovviamente era una cosa retorica per il video non è che io lo guarderò il tuo video è una cosa bellissima questa oddio dio sto male scusami questo momento è veramente divertente beh no posso capire effettivamente se hai fatto questo video senza vederlo hai detto questa cosa sembra fatta forza ma anche perché si è creato questa cosa col video di Alessandro ecco allora l'invito è andata a guardare il video sui fallimenti di Andrea Muzzi non quello di De Concini sono sicuro che i fallimenti dei Concini si stanno protraendo nel tempo stiamo bullizzando dei Concini fermiamoci fermiamoci no scusami questo è stato un momento troppo divertente comunque tornando seri ecco la prudenza del pensare che le sconfitte arriveranno perché sai molto spesso quando poi ci diamo certi obiettivi molto forti dimentichiamo quella prudenza e l'obiettivo diventa un'autodifesa per dirti non verrò mai sconfitto ok non è così perché siamo creature limitate e quindi mettere sempre in conto quella vocina lì che ti dice stai allerta sì sì torniamo a quello che dicevamo prima del vivere per qualcosa perché se tu vivi per il tuo obiettivo e ti viene tolto perché fallisci nel raggiungimento di quel qualcosa è come prima l'identità del titolo che crolla lì è l'identità dell'obiettivo che tu volevi raggiungere che eri sicuro di poter raggiungere crolla e sei senza terra sei senza terra sotto i piedi sei Giovanni senza terra citiamo citiamo un'opera a me molto cara ma infatti su questo non so se posso fare una domanda super veloce ovvero che questo fatto che tu prima hai detto che tra le tue grandi paure è quello di non avere un obiettivo ben chiaro e di non sapere precisamente dove vuoi andare ma è perché hai paura di non sapere che cosa dimostrare agli altri o a te stesso ovviamente magari anche un mix dei due perché credo che la maggior parte delle volte che uno si sente perso è perché dice eh ma adesso cosa posso dimostrare agli altri o è secondo te una lotta che fai soprattutto con te stesso allora sono sicuramente entrambe le cose intanto è una bellissima domanda sono sicuramente entrambe le cose sempre e comunque quello che cambia è la percentuale quindi la percentuale ok io faccio questa cosa all'80% per me il 20% per gli altri ovviamente non è possibile stabilire queste percentuali però ci proviamo se non altro a livello a livello teorico sicuramente fino a qualche anno fa c'era tantissimo l'aspetto anche del dimostrare agli altri derivato dalle mie insicurezze man mano nel corso degli anni va più verso di me ma anche qua in realtà dimostrare agli altri può essere anche in maniera positiva torniamo al discorso dell'ispirare qualcuno quindi lo faccio anche perché mi piace ispirare gli altri insegnare qualcosa condividere qualcosa però l'elemento di dover dimostrare agli altri qualcosa era molto presente all'inizio della mia carriera nel mondo delle gare c'era tantissimo anche di me ma tantissimo anche degli altri questo deriva in gran parte anche dalle insoddisfazioni e dalle insicurezze che io ho avuto al liceo durante il quale mi è stato più volte detto sia dai professori che dai compagni che io non valevo che non ero intelligente e quindi mentre io sapevo che ero in grado di poter fare qualcosa di grande e quindi poi uscito dal liceo e avendo intravisto la possibilità di diciamo sbattere in faccia questo risultato tramite le gare di memoria questo ha amplificato la mia ossessione perché era era un mezzo non solo al di là del fatto che mi piaceva un sacco quindi a livello proprio tecnico era un modo per dimostrare agli altri e a me che valevo difficile dire in che percentuale però sicuramente nel momento in cui uno affronta un percorso di questo tipo orientato soprattutto al dimostrare agli altri anche questo è un rischio ma infatti io quando riguardo indietro le cose che io ho fatto e non mi piacciono sono cose che io ho fatto per dimostrare qualcosa a qualcuno è sempre così e oggi sono molto allerta su questo perché a me piace pensare alla maturazione come a un momento in cui tu ti rendi conto del fatto che la felicità sta nell'offrirsi ok cioè io oggi offro i miei argomenti studio faccio quello che faccio ma non è che voglio farmi grosso agli occhi degli altri non è che voglio fare mi sento di avere qualcosa da offrire e questo vale tanto per il lavoro che facciamo su youtube quanto nelle relazioni se tu quando tu ti rendi conto che la relazione quella vera si basa sul fatto che in quella relazione dai più importanza a quello che tu offri rispetto a quello che ricevi sei meno dipendente da quella relazione c'è una pagina bellissima l'ho citata scusatemi se avete sentito la cogitata con Stefano Rossi la risentirete però è troppo bella c'è una citazione molto bella di Viktor Frankl autore dello psicologo nei lager autore meraviglioso in cui lui a un certo punto parla di quando era ad Auschwitz e lui dice io sto pensando da mia moglie che non vedo da 4 anni non so se è viva non so se è morta però provo felicità nel sapere che io la amo io non so se lei mi ama perché lei magari non c'è più magari lei si è dimenticata magari chissà cosa è successo ma non è che io traggo felicità dal sapere che lei mi ama io traggo felicità dal fatto che io so di amarla io ho l'idea di lei e io offro quello che ho dentro e questa offerta è ciò che dà significato alla mia vita dice Frankl e questo si può traslare a tutto e quando ti rendi conto di questo allora lì sei meno schiavo delle quantità però devi essere estremamente maturo per poter fare una cosa del genere devi aver fatto delle esperienze credo di devi aver fatto devi aver passato delle sconfitte quelle sconfitte lì che temiamo tanto sono quelle che poi ti fanno dire ok magari adesso la direzione la do in modo diversa ed è una maturazione che bene o male è a disposizione di tutti bisogna saper cogliere i messaggi che le sconfitte ti danno ultima cosetta prima di passare alle domande della gente una domanda canonica che si fa sempre agli ospiti tre libri che per te sono stati molto molto importanti nella tua formazione ok allora il cigno nero ne parlavamo prima off camera poi pensieri lenti e veloci del premio Nobel per farci capire quanto siamo stupidi e irrazionali e non so se suggerire un libro sulle tecniche di memoria oppure oppure no tu non sei un lettore di romanzi mi sa narrativa non ti più anni fa sì però preferisco preferisco i saggi sono in difficoltà sul terzo ma sì l'arte di ricordare tutto perché non è un libro che ti spiega le tecniche di memoria ma ti spiega il mondo che c'è dietro le basi ti fa appassionare a questo mondo l'autore per cui l'autore è Joshua Foer questo me lo leggerò perché non lo conosco è proprio il best seller più venduto in assoluto nel mondo delle gare di memoria molto bene molto bene Andrea è stato fighissimo chiacchierare anche per me è stato un super piacere ti ringrazio per essere stato qua e spero che sia la prima di una lunga serie di cogitate magari volentieri nei prossimi giorni uscirà anche insomma se volete sul canale di Andrea una piccola chiacchierata che abbiamo fatto sullo stoicismo troverete dei punti di assonanza ma non così tanto quindi insomma è un video che vi consiglio di vedere e se siete in live non uscite perché adesso leggiamo qualche domanda per chi è indifferita il link in descrizione per il canale di Andrea andate iscrivetevi conoscete il suo lavoro perché ne vale la pena ringraziandovi di nuovo io vi saluto e ci vediamo alla prossima a presto ringraziandovi di nuovo